Tragedia sfiorata ai giardini delle ghiaie a Portoferraio. Nel primo pomeriggio di oggi due mamme si trovavano sulla panchina nella zona dei giochi sotto un vecchio leccio. I loro bambini, un maschio e una femmina che si era appena alzata dal passeggino posizionato accanto alla panchina, stavano giocando quando un grosso ramo si è staccato dall'albero. Prima si è abbattuto sull'asse dell'altalena distruggendola e poi sul passeggino anche questo è andato distrutto. Le due mamme hanno cercato di proteggere i figli e per questo sono state colpite dal ramo. Mamme e bambini sono stati portati al pronto soccorso e per fortuna per i più piccoli tutto si è risolto con un grande spavento ma senza alcuna conseguenza fisica. Le due donne sono state sottoposte agli accertamenti del caso e per fortuna hanno riportato solo graffi e contusioni causate dalle fronde del grosso ramo caduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i tecnici comunali, la cooperativa Cisse che in regime transitorio gestisce il parco delle ghiaie e le ambulanze del Santissimo Sacramento che hanno portato i quattro all'ospedale. La zona dei giochi dove è caduto il ramo è stata transennata interdetta all'accesso in attesa che gli alberi siano messi in sicurezza. Il comune per la prossima settimana ha predisposto un sopralluogo con un esperto fitosanitario per verificare che non ci siano altre situazioni a rischio.